Ciao, eccomi al mio primo concorso, come vi dicevo nello scorso video ho deciso di festeggiare il mio numero di iscritti mettendo in palio la mia creazione, prima di mostrarla vi dico solo due cose, non ci sono regole se non essere iscritti al mio canale e di lasciare un commento sotto a questo video, il concorso si apre oggi che è il giorno 3 e si concluderà il giorno 9, io entro il giorno 10 pubblicherò un video con la vincitrice o il vincitore e prima della mia operazione, quindi prima del 13 ho la necessità di ricevere l'indirizzo per spedire il pacchetto niente, che altro dire, penso di avervi detto tutto e adesso passo a mostrarvi cosa metto in palio allora, metto in palio questo ciondolo che ho chiamato fiocco di neve, visto un po' i colori e i temi della stagione è un ciondolo che ho realizzato ieri, è una madre perla, che è stata tutta decorata ma in principio l'ho decorata con i colori della pebeo, era una madre perla bianca, l'ho colorata sia nella parte davanti che nella parte dietro non sapevo se faccio un ciondolo, un anello, ma alla fine ho deciso di fare un ciondolo l'ho decorata così, a fiocco di neve, adesso non si vedrà benissimo, perché poi i colori non aiutano e niente, insomma metto in palio questo ciondolo e chi se la giudicherà potrà decidere di mettere una catenella a questo ciondolo oppure, non so, togliere l'anellino e crearci un anello, insomma quello che preferisce niente, io spero che vi faccia piacere questo mio piccolo regalo per ringraziarvi dell'iscrizione per ora è tutto, vi mando un bacio adesso ve la mostro, ecco forse poi si vede bene vi mando un bacio e al prossimo video, ciao